Benvenuti a Radio Pugginio NER, il vostro podcast di riferimento per l'analisi e la discussione sui principali eventi della politica italiana, della musica, della tv. Nell'episodio di oggi ci immergiamo in una recente intervista andata in onda proprio pochi minuti fa sulla 7 durante la trasmissione di martedì del 28 maggio 2024 e noi come ogni settimana andiamo a cercare quegli ospiti che ci interessano. Giovanni Floris ha avuto molti ospiti tra cui Ascanio Celestini e Alessandro Di Battista che hanno offerto le loro prospettive su alcuni temi più scottanti del momento. Se vi siete persi questo momento televisivo restate con noi per un resoconto dettagliato e approfondito e poi andate sulla 7 a rivedere in streaming la puntata appena potete. C'erano anche altri ospiti noi ci concentreremo su alcune parole. Quelle che a noi sono sembrate più rilevanti di questo intervento di Ascanio Celestini e Alessandro Di Battista ospiti entrambe dello stesso momento. Giovanni Floris apre la discussione chiedendo ad Ascanio Celestini cosa pensi del nuovo capitolo della vicenda italiana riferendosi alla recente visita di Giorgia Meloni a Caivano dove incontrando De Luca insomma tutti abbiamo visto abbiamo già parlato di quanto accaduto in modo un po' goffo si è avvicinato a lui un po' da bulla dicendogli ecco io sono una stronza e gli ha dato la mano. Insomma vediamo cosa ne pensa Ascanio Celestini che risponde con un'affermazione forte sul fatto che la Meloni stava a Caivano beh oggi diciamo che lo sappiamo da 49 anni e dove dovrebbero stare i rappresentanti delle istituzioni oggi dove dovrebbero stare dove 50 anni fa c'è stata una strage fascista ma non lo dico io non lo dicono i comunisti anarchici cattivi lo dice il presidente della repubblica oggi la repubblica italiana è Brescia è piazza della loggia è questo teatro Celestini sottolinea come in un giorno di commemorazione così importante per la repubblica italiana i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero essere presenti a Brescia dove avvenne la strage fascista di piazza della loggia egli critica implicitamente la decisione della Meloni di trovarsi a Caivano suggerendo che tale scelta sia stata premeditata per evitare la commemorazione antifascista continuando Celestini sostiene che una parte del paese delle istituzioni non abbiano mai digerito la fine del fascismo e il conseguente stato democratico aggiunge che oggi al governo ci sono i figli e i nipoti i nipotini li chiama di quei fascisti i quali vedono la commemorazione antifascista come una minaccia e vediamo cosa ha aggiunto a questo dibattito questa sera Alessandro di Battista a proposito invito come sempre anche voi ad esprimervi sui temi di cui stiamo parlando in maniera tale nei commenti del nostro podcast da aprire anche noi un bel dibattito continuare a parlare di questi temi che sono usciti fuori in questa intervista che vi stiamo raccontando a questo punto Alessandro di Battista quando interviene interviene con una serie di osservazioni incisive sottolinea come la strage di Brescia sia stata caratterizzata da depistaggi e dall'implicazione dei servizi segreti e delle forze dell'ordine mettendo in evidenza quanto la Repubblica italiana sia stata influenzata da tali operazioni oscure di Battista critica poi la gestione della visita di Meloni a Caivano suggerendo che essa distolga l'attenzione dai problemi reali dei giovani della zona come la criminalità e le condizioni sociali difficili egli denuncia l'uso del torpiloquio da parte della Meloni come uno stratagemma comunicativo in vista delle elezioni evidenziando invece il silenzio della leader di fronte alla violenza in Palestina e alle azioni del governo israeliano. Poi di nuovo interviene Celestini anticipando la probabile critica di Bocchino che lo definirebbe ossessionato dal fascismo ribadisce l'importanza di questa ossessione poiché la Costituzione italiana è nata dall'antifascismo e dalla resistenza. Per lui il dibattito su cui ha ragione o torto è secondario rispetto alla necessità di riconoscere le diverse visioni del paese e del mondo che queste posizioni rappresentano. L'intervista prosegue con Celestini che sottolinea la fortuna di vivere in un paese con una Costituzione antifascista citando Pertini e riflettendo sulla discussione attuale riguardante il presidenzialismo tema che fa inevitabilmente ripensare al periodo fascista e al plebiscito del 1929. In conclusione questa intervista ad Alessandro Di Battista e a Celestini hanno offerto molti spunti di riflessione sulle tensioni politiche attuali sulla memoria storica e sull'importanza dei valori costituzionali in Italia. Celestini e di Battista hanno portato avanti un dibattito vivace e critico evidenziando come le scelte politiche di oggi siano influenzate dalla storia e dalle ideologie che hanno plasmato il paese e l'hanno anche rovinato. Grazie per averci ascoltato su Radio Puginion Air e speriamo che questo racconto vi abbia offerto una comprensione abbastanza chiara di alcuni dei temi discussi durante queste interviste e vi invitiamo ad unirvi a noi nel prossimo episodio per ulteriori analisi e approfondimenti al prossimo episodio di Radio Puginion Air.